. Meghan Markle abbandonata da tutti, ecco la verità sulla duchessa. La notizia fa il giro del web, Meghan Markle sarebbe stata abbandonata. Ma cosa sta succedendo a Frogmore Cottage?. La duchessa del Sasix ha messo al mondo il suo primo genito a Arci il 6 maggio scorso, e ora è alle prese con la maternità tutta sola. Neanche una tata, ad aiutarla solo mamma Doria. Ecco la verità. La duchessa rimane da sola mentre Harry scappa allestero. Baby Sasix è nato da poco più di una settimana e Meghan Markle si gode appieno la maternità con laiuto della mamma Doria. Anche il principe Harry dà il suo contributo quando non ha impegni importanti, ma spesso è in giro per lavoro. . La tata reale ancora non è stata scelta e la duchessa del Sasix se la cava da sola in tutto e per tutto, senza interferenze. Secondo alcune indiscrezioni del Daily Mail, Meghan ed Harry avrebbero scelto di non fare affidamento ad uno staff esterno per le cure del piccolo Arci. Per questo motivo è fondamentale la presenza della mamma Doria. . Che laiuta nelle faccende di casa e quelle che riguardano il nipotino. In tal modo, per il momento Meghan è esclusa da ogni dovere ed impegno regale. A rappresentare la famiglia ci pensa, invece, il principe Harry. . Attualmente è sempre molto impegnato in viaggi all'estero, prima nei Paesi Bassi, e successivamente anche a Roma. Il principe si recherà in Italia per prendere parte alla Sentebale Polo Cup, a sostegno di un'associazione benefica. . Insomma, la famiglia è divisa e Meghan è alle prese con pannolini e ore piccole. Anche la mamma Doria abbandona Meghan. . Mentre si riflette se la scelta di non ricorrere alla tata sia stata giusta, Meghan ora dovrà cavarsela da sola. . Infatti, sua mamma Doria ha fatto ritorno a Los Angeles lasciando la figlia in preda al figlio Archie Harrison. . . Secondo alcune indiscrezioni, Doria Ragland farà presto ritorno in Inghilterra. . . Dove trascorrerà i prossimi mesi accanto al nipoteno e alla figlia. . . Per il momento, Meghan potrà contare solo sulle sue forze e su quelle della migliore amica. . . Jessica Malroni, che è in viaggio insieme alla figlia per conoscere Baby Sussex. . .